In un momento di crescente preoccupazione per la salute di Papa Francesco, una rivelazione diretta dal suo chirurgo personale offre una nuova prospettiva. Ma ciò che emerge dalle ultime notizie sul Pontefice è davvero tutto ciò che c'è da sapere? Negli ultimi tempi, la fatica e l'incapacità di parlare pubblicamente hanno caratterizzato le apparizioni di Papa Francesco, culminando in una particolare preoccupazione durante la messa della Domenica delle Palme. Il visibile stato di affaticamento ha sollevato interrogativi sulla salute del Pontefice. In risposta, Sergio Alfieri, il medico che ha operato Papa Francesco all'addome due volte negli ultimi anni, ha offerto un'analisi rassicurante durante un'intervista con Il Corriere della Sera. La narrazione ufficiale ti convince. Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto. Ha descritto il Papa come un «Uomo di 87 anni con enormi responsabilità», sottolineando che i momenti di affaticamento sono naturali e non vi sono situazioni di preoccupazione. Per restare aggiornati sullo stato di salute di Papa Francesco e su altre notizie di rilevanza mondiale, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Alfieri ha rivelato che, nonostante le episodiche difficoltà respiratorie, aggravate nei periodi più freddi e da un pregresso intervento polmonare, la salute del Pontefice è stabile, senza malattie particolari e sottoposta a controlli periodici. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima! Alla prossima!